Le nuove frontiere dell'odontoiatria L'odontoiatria moderna ha raggiunto dei risultati inimmaginabili Oggi con le nuove metodiche, con le nuove tecniche chirurgiche riusciamo a protetizzare tutti i tipi di pazienti Dal paziente che gli manca un zirvolo dente al paziente che gli mancano tutti i denti Grazie alle nuove tecnologie che si utilizzano in campo odontoiatrico Si può venire la mattina senza denti e nella stessa giornata si manda via il paziente con tutti i denti fissi inseriti Grazie a questa apparecchiatura riusciamo a capire Qual è la densità dell'osso e riusciamo a inserire i denti e i denti ossi e a caricarli immediatamente Cioè a metterli in masticazione subito e a mandare il paziente nella stessa seduta con i denti definitivi Questo è un apparecchio radiografico che serve a controllare gli imbianti e indossie come sono stati messi E serve anche a fare diagnosi di qualsiasi tipo di patologia odontoiatrica Grazie a questo apparecchio riusciamo a rilevare le imbronde ottiche E così evitiamo di utilizzare i vecchi materiali di imbronda che erano molto fastidiosi per i pazienti Una volta rilevata l'imbronda ottica elaboriamo il progetto protesico e inviamo il file nel nostro laboratorio Che in brevissimo tempo, nell'atto di qualche ora, ci darà gli elementi definitivi, gli elementi protesici definitivi Questa è la nostra sala operatoria dove eseguiamo i vari tipi di interventi chirurgici di tipo ambulatoriale E noi trattiamo anche i pazienti a rischio perché grazie alla collaborazione di anestesisti Riusciamo a trattare questi tipi di pazienti Grazie a tutti